Sulla spiaggia di Marina di Camerota è finito sotto sequestro il noto stabilimento balneare Playa e Flamingo. I sigilli sono stati apposti dagli uomini della Guardia Costiera dopo aver accertato che i lavori di allestimento della struttura erano iniziati prima del periodo stabilito nella concessione. Pare infatti che i titolari potevano cominciare a montare il lido dal prossimo primo maggio. Il cantiere è stato posto sotto sequestro e i proprietari denunciati per occupazione abusiva del suolo dei Magnale. Inquinava l'ambiente e il sottosuolo in un'area adiacente alla cinta muraria dell'antica Pestuma. La Guardia Costiera ha apposto i sigilli ad un'azienda agricola dedita all'allevamento bufalino ed estesa su una superficie di 150.000 metri quadri. Diversi reati contestati al titolare, tutti di natura ambientale. Durante i controlli nell'azienda sarebbe stato verificato che da anni i reflui zootecnici venivano smaltiti illecitamente sui terreni circostanti, come anche il percolato prodotto dagli invasi che contenevano il mais e il foraggio, e venivano smaltiti, anche incendiandoli, rifiuti speciali e pericolosi come l'amianto. Da venerdì scorso, l'importante allevamento di bufale all'ombra dei templi di Pestuma è sotto sequestro. Un'attività investigativa che rientra in una più vasta azione di controllo, avviata su tutto il territorio di Capaccio per accertare se le attività che vengono svolte nelle innumerevoli aziende zootecniche sono in regola con le leggi che tutelano l'ambiente e la salute pubblica.